Beh, è un'emozione fortissima perché si sente proprio la tensione degli atleti e tra l'altro anche dei partecipanti. Noi abbiamo dato il via non solo alle ondate dei professionisti e degli amatori ma anche alla stracittadina. Sono persone, sono romani che corrono per 5 km, corrono, camminano, cioè si sente proprio la voglia di partecipare, di correre. Insomma, è veramente una bellissima mattinata. Qual è l'importanza di eventi di questo genere in una capitale come Roma? Innanzitutto questi eventi si svolgono nelle maggiori capitali del mondo e quindi Roma c'è assolutamente, gareggia insieme alle altre città e capitali internazionali. La cosa bellissima è che vediamo uno sport così semplice, tra virgolette, come la corsa unisce davvero tutti. Abbiamo visto grandi, piccini, donne, uomini e non c'è distinzione. Quando si corre si fa tutti la stessa cosa con l'unico obiettivo, arrivare alla fine. Questo è importante. Per l'organizzazione, il suo giudizio sull'organizzazione? Beh, direi che l'organizzazione è estremamente complessa, vede insieme, come dire, collaborare tantissime forze perché un evento come questo, che è un evento veramente mastodontico, funziona solamente se ciascuno fa la propria parte. E quindi, insomma, direi che per adesso sta andando tutto bene.